sono proprio loro il terzo segreto di satira giustamente sono stata smentita in un anno secondo ha detto no sarà l'ultimo collegamento e invece no per fortuna ce l'abbiamo fatta parlo prima dell'inizio anche della cerimonia sono molto contenta di avere qui con me parte perché voi siete un collettivo e quindi rappresentate diverse anime innanzitutto che impressione vi ha fatto semplicemente entrare in questa sala potentissima io dicevo a loro è la prima volta che entro a palazzo affari quindi sì e vivo a milano da sempre perché sono milanese con un accento però è giusto così ma infatti centro centro del centro di milano giustamente e infatti ci fa piacere anche dare questa opportunità di sperimentare anche nuove nuove opportunità ragazzi voi siete stati anche al cinema insomma abbiamo qui anche uno dei dei volti anche del vostro film quindi passando anche da il mondo del web al grande schermo la domanda da un milione di dollari come è stato questo passaggio ed è bello ritornare poi nella propria casa d'origine ma ti posso rispondere dal punto di vista degli attori nel senso che è stato bellissimo perché sta un'esperienza per raccontare una storia che avesse un inizio svolgimento una fine e non un semplice sketch tornare a fare i video diciamo più in casa è sempre bello perché comunque ti riporta una umiltà che ci contraddistingue dove noi facciamo i truccatori i costumisti di noi stessi e quindi è sempre piacevole anche se c'è un produttore che sta ascoltando noi siamo pronti con un nuovo soggetto ovvero registi autori perfetto prontissimi quindi lo possiamo già annunciare si è già scritto tutto pronto chi vuole ci contatti al 348 tutto fatto domani mattina è fuori perché noi non abbiamo dato adesso il nostro numero whatsapp di solito ma magari qualcuno ci ha contattato verificheremo poi di darvi le informazioni ragazzi l'abbiamo chiesto un po a tutti anche gli altri ospiti questa sera una serata dedicata alla comunicazione quali sono secondo voi qui ditemi voi chi vuole rispondere se magari uno a testa tre consigli che voi dareste a chi vuole fare comunicazione attraverso il web allora c'è il goio allora c'è un trittico di di verbi alla scusa mi tieni tu se noi avevamo fatto avevamo fatto questa questa serie che si chiama sandro abbiamo fatto due stagioni e c'era uno dei personaggi che era lo storyteller appunto che era il comunicatore per eccellenza che riassumeva così qualche modo lo storytelling che era romanzare omettere emozionare mi sembrano i tre consigli migliori che si possono dare per la comunicazione infatti la domanda è romanzare e omettere omettere mi suona strano ce la vuoi spiegare mi piace questo brainstorming anche ma grazie per la domanda renato no ma in quel caso raccontavamo un certo tipo di comunicazione che non è il nostro comunque non ci rappresenta pieno ma era un tipo di comunicazione che in qualche modo doveva in qualche modo portare allo spettatore a pensare che quello che aveva davanti non era la realtà ma era qualcuno che si immaginava o comunque che cercava di porsi in maniera migliore rispetto a quello che era e quindi omettere faceva parte del meccanismo un consiglio forse più più normale diciamo è essere più naturali possibili forse è un po la chiave però risulta quasi seria detta così era meglio mettere romanzare emozionare una cazzata più vicino a noi a tal proposito io stessa vi ho conosciuti insomma con le elezioni di milano il buon giulano pisapia le primarie del pd ma cosa diciamo di questo governo giallo rosso a proposito di omettere diciamo che forse è meglio di quello giallo verde ma mi viene da dire anche grazie al ca e non la finisco la frase e niente noi adesso stiamo preparando appunto dei video abbiamo un paio di video in cantiere e forse uno risponde un po a queste domande quindi vediamo se riusciamo a portarlo dalla carta al video effettivo e quindi probabilmente al mondo internet stay tuned verrebbe da dire ma scusate questo era un attimo e grazie anche potrei fare anch'io questo lavoro ragazzi io vi ringrazio anche per insomma essere stati qui con noi so che ci rivedremo anche più tardi ma non voglio svelare troppo e quindi godetevi questa serata grazie a tutti